Ciao Matteo, mia donna mia, Russo, grazie per la donazione, riceverai la maglietta fra due mesi. Comunque posso darti un consiglio Matteo Russo, siccome è un cognome veramente veramente super diffuso al sud, rivendi questo video saluto a qualcuno che si chiama Matteo Russo. E' il better best, anche poi che prezzo, che mercato può avere. Eh vabbè che ne so. Io ho un amico che si chiama Rino Russo. C'è anche la voce di parla ragazzi in questo video, vale molto di più. Ciao, grazie. Grazie a tutti.